Noi abbiamo voluto fare una selezione per assumere del personale a tempo determinato o in sostituzione del personale che si assenta per ferie, malattie o altro o per riempire dei vuoti che si possono creare in futuro. Questa selezione però questa volta l'abbiamo voluta fare in una maniera un tantino diversa. Ci siamo guardati intorno e abbiamo visto che il territorio offre a livello di risorse umane ragazzi veramente brillanti e con titoli di studio di un certo livello. Ecco perché in un periodo come questo si può prendere il meglio e quindi da questa nostra selezione tra i figli di soci, tra soci e figli di soci siamo riusciti ad ottenere un numero di iscritti di 125 ragazzi. Ci sono delle giornate di studio dove i docenti saranno dipendenti della banca in cui in effetti andranno sull'operativo, non sul teorico, quindi tutto il corso sarà di tecnica bancaria. Si svolgerà in questo, abbiamo tenuto conto anche delle esigenze dei ragazzi e quindi in questo periodo ci sono tanti ragazzi che stanno fuori quindi abbiamo voluto tener conto che durante il periodo natalizio ci sono e quindi faremo il corso e faremo anche la selezione in modo che la short list che andremo a creare per 50 ragazzi idonei, i primi 50 ragazzi idonei quella short list che andremo a creare che ha la durata di 18 mesi già può essere pubblicata i primi giorni di gennaio. Ma l'idea non è solo di limitare questa selezione a noi ma l'idea è quella di fare un workshop giorno 23 in cui inviteremo tutte le aziende anzi faccio qui un appello a partecipare alle aziende del territorio poi ci saranno degli inviti sulle aziende nostre clienti faremo questo workshop dove i giovani incontrano le imprese e in quella sede lancieremo l'idea della costituzione di un'agenzia di selezione lavoro nel Vallo di Diano che vede coinvolti gli istituti scolastici, l'Università di Potenza, l'Università di Salerno e la banca che farà da capofila dove effettivamente potremmo creare uno sportello di selezione dove vengono aggiornati i curriculum e una borsa lavoro del Vallo di Diano e dove operiamo noi, quindi anche provincia di Potenza fare una borsa lavoro dove si incontrano domande e offerte di lavoro perché molte volte le aziende non sanno quali professionalità ci sono così come i ragazzi non sanno quali aziende ci sono sul territorio dove potrebbero prestare le proprie energie lavorative